Parte dall'Istituto Liceti di Rapallo la campagna di screening che l'ASL4 avvia con tamponi antigenici rapidi nelle scuole superiori. La scuola capofila della Rete d'Ambito ha proposto il test ad alcuni studenti su base volontaria che hanno accettato di sottoporsi all'esame. Un gesto importante sia sotto il profilo sanitario sia dal punto di vista educativo. Non siamo nella fase del liberi tutti per cui sono ripartite le scuole e si può fare tutto ma stiamo dando un segnale di cura, responsabilità e dicendo sottoponetevi perché dobbiamo tracciare e dobbiamo capire e prevenire il più possibile eventuali cluster o eventuali contagi. Già decollato in ASL3 lo screening consente di individuare eventuali positivi asintomatici che costituiscono un pericolo nella propagazione del contagio. Il tampone ti fa una fotografia chiaramente della situazione puntuale però ha chiaramente la capacità di intercettare quei casi asintomatici che altrimenti diventerebbero e potrebbero diventare diciamo contagi concreti. In quest'ottica i ragazzi delle scuole superiori per numero di relazioni e di attività soprattutto extrascolastiche rappresentano un veicolo di contagio privilegiato. Farlo con i ragazzi, con la popolazione delle scuole che in qualche modo è certamente la più vicina a questo percorso educativo ci incoraggia a pensare di costruire, di contribuire a costruire sempre di più comportamenti virtuosi, comportamenti corretti. In contemporanea prosegue la vaccinazione. L'auspicio è di arrivare a vaccinare gli over 80 soggetti più a rischio. Occorre un numero di dosi sufficienti ma anche quelle arrivate da Moderna saranno ancora convegliate nella fase 1. Moderna è il secondo tipo di vaccino che ci è messo a disposizione, sono per adesso molte poche dosi e cercheremo di usarle nella stessa popolazione target della fase 1, quindi la popolazione anziana residente nell'RSA e questo per cercare di completare al più presto questa fase e quindi poter iniziare la fase 2, quella che si rivolge alla popolazione ultraottantenne.